La rassegna inizia con Terrazza d'Autore, che è ormai una rassegna collaudata, che si solgerà al Molino del Cessio, imperniata soprattutto sulla buona lettura, ma anche su momenti di degustazione dei prodotti tipici locali. Poi abbiamo le attività al Teatro Comunale Nino Croce, dove avremo la rassegna teatrale delle compagnie teatrali locali, ma abbiamo anche tanti altri artisti di fama addirittura internazionale, Petra Dagna, Peppe Santoro, Gianmarinaro, e anche momenti di cabaret con Vespertino. Importante è anche la collaborazione quest'anno con il Conservatorio Scontrino, con il quale abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa, avremo quattro spettacoli fatti dai ragazzi proprio dal Conservatorio e questo è un modo anche per valorizzare le eccellenze di questa provincia e che avranno l'occasione proprio di potersi esibire in un contesto proprio straordinario che è quello del Teatro Nino Croce. Il cartellone comprende anche delle iniziative da parte dei privati, che noi abbiamo inteso anche valorizzare, e lo abbiamo incluso in questo contesto. Ci sono artisti come Biagio Izzo, Umberto Smaila, Nino Frassica, che allieteranno proprio le serate dell'estate valdericina e che quindi concorreranno a dare importanza a questa rassegna 2017. Grazie. Grazie. Grazie.